Non so se l'avete capito da Krusty dietro di me, però siamo a Springfield Ma ecco. Non so se l'avete capito da Krusty dietro di me, ma no c'è nostro buco. Credo a questo il nonno pubblico, io devo fare un altro video di minuto. Adesso stiamo andando verso la taverna di Bo, dove è possibile comprare il drink che ha inventato lui, il Flaming Mo, che in realtà non so come si chiama in italiano, però qua lo chiamano Flaming Mo, quindi secondo me è anche in italiano così, probabilmente. Poi vi faccio vedere un'altra cosa interesting. Davanti al negozio di Apu, che ce l'ho davanti qua a me, eccolo, davanti al negozio di Apu c'è un telefono che suona, sempre, e se rispondete sentite le voci dei Simpsons. Adesso vorrò mettere il microfono vicino alla telecamera, a vedere se sentite. Che figata! Adesso. 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 Dice che non si può entalare. Adesso. 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 Adesso.